Quest'anno Book City ha diverse novità, diversi momenti di cambiamento, di trasformazione, come si addice a un progetto che ha sempre fatto della sua capacità di rispondere anche in tempo reale alle sollecitazioni della comunità di riferimento, con una comunità cittadina, appunto la sua caratteristica. E dico comunità cittadina perché la caratteristica più forte di Book City è quella che è una manifestazione che sempre più la città sente come propria, come un momento in cui l'intero spazio urbano viene abitato dal pensiero, comunicato attraverso le parole dei libri che vengono letti, che vengono condivisi, che vengono illustrati, che vengono raccontati, che vengono messi in scena, che vengono messi in mostra. E tutto questo genera una grande capacità di condivisione della lettura che è, credo, la forma migliore per far sì che la lettura diventi sempre più, non soltanto uno strumento prezioso di incremento e di acquisizione di nuovo patrimonio cognitivo per la comunità cittadina, ma anche un modo di esprimere la propria cittadinanza e la propria appartenenza alla nostra Milano.